Oggi con la R18 affronteremo a frita il classico quindi abbiamo montato un bullet pastura rossa fondo big strawberry come a Roma e mais come innesco. Metodo classico vediamo se riusciamo a portare a casa qualche bella tinca o qualche anche qualche carpa eccola eccola la prima tinca fe del classico ecco che bellissimo pesce seconda tinca a feather fishing classico con bullet pellet all'amore alibut ma che bella la signora tinca bella 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 perfetta si vediamo subito no 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 Autore dei sorrisi Autore dei sorrisi